Ciao a tutti, bentornati sul canale Amoglitaliani.Non tutti sanno che Paola Barale soffre di una particolare patologia. Ecco di cosa si tratta, e come la conduttrice ha deciso di affrontarla. Nel mondo ci sono circa 8 miliardi di abitanti, e siamo tutti diversi gli uni dagli altri. Ognuno ha le proprie ambizioni, i propri sogni e i propri dolori. Insomma, ogni percorso di vita è a sé, ma nonostante ciò, esistono alcuni aspetti che ci accomunano tutti quanti indistintamente. Tra essi vi sono la salute, ed eventuali alti e bassi che si possono verificare durante il proprio cammino. Ebbene sì, siamo tutti in baglia degli eventi, nessuno escluso. E non possiamo sapere in maniera preventiva cosa il futuro ci riserverà. L'unica cosa che è in nostro potere fare è temprare il carattere, affinché si possa affrontare con coraggio e determinazione ciò che la vita ha in serbo per noi. Bisogna essere forti, dunque, e se c'è una persona, una donna, che di forza ne ha vendere, quella è senza dubbio Paola Barale. La conduttrice, infatti, nel corso della sua vita non ha fatto altro che affrontare di petto ogni situazione. E ciò non vuol dire non soffrire dinanzi alle difficoltà, bensì prenderne coscienza, e andare sempre e comunque avanti. Paola ha sempre espresso il suo modo di vedere le cose con grande chiarezza, ma abbiamo avuto modo di conoscerla un po' meglio anche grazie al suo libro di recente pubblicato, Non è poi la fine del mondo. All'interno di esso, la Barale ha voluto affrontare a suo modo un tema attorno al quale ancora oggi aleggia una sorta di tabù, la menopausa. E inoltre, nel corso di un'intervista rilasciata in occasione di una sua ospitata a Domenica Inn, la showgirl ha deciso di esporsi ancora una volta a 360 gradi, e di rivelare di essere affetta da una particolare patologia. Scopriamo insieme, a tal proposito, tutto quello che c'è da sapere. La patologia di Paola Barale.Tutti conosciamo Paola Barale come una professionista del mondo dello spettacolo e una donna molto riservata, ma nonostante ciò, non ha di certo mai avuto paura di raccontarsi. Per questo motivo, nei momenti in cui ha ritenuto opportuno parlare di sé e della sua vita, lo ha sempre fatto, con grande onestà, chiarezza e sincerità. E così è stato anche di recente, nel corso della sua partecipazione a una puntata di Domenica Inn in qualità di ospite. In tale occasione, infatti, la Barale ha rivelato una particolare condizione fisica che la riguarda. E a tal proposito, ha affermato quanto segue, ho una vertebra un po' scivolata in avanti. Però ho deciso di non operarmi e di affrontare la cosa con la fisioterapia, perché dovrebbero mettermi una protesi. Tale patologia, per chi non lo sapesse, prende il nome di spondilolistesi, e si manifesta proprio così, con lo spostamento in avanti o indietro di una vertebra. La gravità e il dolore provocato dal suddetto disturbo, ovviamente, varia in base al grado di inclinazione delle vertebre colpite, e da ciò dipende anche il tipo di trattamento. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra, ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.